Ciao a tutti ragazzi, qui ForteMogri Parla, benvenuti in video sportite Oggi ragazzi molto veloci, la challenge di oggi che mi sono imposto è quella di non dire mai questa parola che vedete a schermo all'interno del video Se la dico, il video finisce Vi ricordo di mettere like ed israeli nello shop sempre il codice creatore Fortu Vi lascio al game Ho scelto proprio questa parola perché ragazzi io mi sono accorto che durante le live nei video la spammo come se fosse veramente acqua di continuo Quindi sarà molto figo provare a non dirla Il mio obiettivo principale è vincere, più che pensare alla challenge ma comunque dobbiamo stare attenti anche a quello Mi invito anche a voi a scrivere magari una challenge nei commenti e di vedere ragazzi come ce la caviamo Andiamo Allora, perfetto Oh, frega, 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 con calma veramente cazzo Eh vabbè se ciao Allora Come prima arma, il tac a me non spiace proprio Aspettate, devo stare attento Bello Ok guys Che palle Cristo Ho sfonato il controller Allora